Via, 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 video, 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 video Questo è poco ma sicuro. Forse Carmen, dai! Perché non può passare a Ticene, cara? Dai, veloce! Ancora abbiamo un minutino. Forse ragazzi. Un minutino! Un minutino, anche se... Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Se ci chiede la mummia, guarda cosa abbiamo combinato. 30 secondi, 30 secondi, vai, vai. 30 secondi, forse veloce, 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 veloce. Più veloce, più veloce. Più veloce. Allora, 15 secondi, vai, vai. Adesso. 10, 9, 8, 7, insieme, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Fermi! Allora, io dico una cosa, fermi. Toglietemi le donne, le donne, toglietemi un attimo. Toglietemi le donne, vieni, 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 che subito. Scusate, guardate qua, una foto ricordo, per Facebook. Allora, io, io, io parlo con... Scusa, io parlo col pubblico. Il pubblico è sovrano e decide la sorte del vincitore. Secondo voi, caro pubblico, chi è l'uomo che si avvicina di più a essere mummia? Guardatele attentamente. Guardatele. Certo, compagno, ma deve comprare come il bell'uomo che è nato. Sua moglie ha avuto l'arte nelle mani di saperlo avvolgere. Un applauso e te lo facciamo a compagno Francesco Ciccio. Allora, cosa dice Ciccio? Un viaggio per due persone, una e sua moglie, è qua. Un viaggio per due persone, da Parattere e Pamarona alla catena. Applauso! Ragazzi, lasciate qua, poi ci pensiamo noi dopo. Un viaggio per due persone, da Parattere e Pamarona alla catena.